Da 16 a 4 tavolini, una riduzione del 75% degli spazi esterni per un locale di Piazza Ienne, una caffetteria che porta delle problematiche, soprattutto a livello lavorativo. Riccardo Piledu, 24 anni, è il gestore. In arrivo tagli, lavorativamente parlando, e c'è anche un attacco al comune. Sì, sicuramente. Sia l'uno che l'altro. Per noi una bella botta da 16 tavoli che ci sarebbero dovuti aspettare con la designazione di nuovi spazi esterni. Alla fine del progetto ci stiamo ritrovando solamente con 4. Di conseguenza è sicuramente un danno grossissimo per noi e anche per i ragazzi che lavorano come dipendenti. Insomma, in quanto con 4 tavoli non potremmo avere poi la stessa possibilità di tenere del personale per quello che doveva essere appunto lo spazio previsto. La sua accusa, meglio il suo attacco, va nei confronti del comune legato alla ridisegnazione degli spazi esterni? Sì, certo. Il discorso è che non c'è stata molta equità nel ridistribuire gli spazi. Noi in particolare magari siamo stati penalizzati per il fatto che ci ritroviamo nel passaggio che porta poi al mercato di Santa Chiara. Quindi con una scusa, insomma, del passaggio di camion o macchine, ci verranno poi tagliati questi tavoli di qui. Anche le attività qua vicino che fanno angolo non potranno avere uno spazio completo. Questo poi ci fa un po' pensare, anche perché magari altre zone, tipo il Corso, via Roma, sono state pedonalizzate e il progetto di piazza Ienne pedonale non è stato rispettato e continueremo così, no? Voi avete provato a chiedere al comune? Sì. Se c'è comunque qualche possibilità di cambiare la situazione vostra? Sì, non c'è stata data una risposta chiara. Torniamo appunto al discorso che qui poi la nettezza urbana avrà bisogno di dover passare. Per un discorso di immagine della salita di Santa Chiara sarà, credo, quasi impossibile poi poter avere una tenda sia a noi che agli altri locali per poter avere uno spazio esterno decente, sia per l'estate che per l'inverno. Lei è un giovane imprenditore, ha 24 anni ed è già nel settore della ristorazione in questo caso. Avere a che fare con queste problematiche, comunque anche con queste decisioni che arrivano dall'amministrazione comunale, come sostiene lei, è comunque un danno ulteriore, magari anche qualcosa che fa un po' passare la voglia di fare imprenditoria a Cagliari? Sicuramente sì, è una delusione discretamente grossa. Diciamo che un anno fa, quando ho preso questa attività qui in gestione, avevo scelto di investire i miei risparmi, i miei guadagni anche con un aiuto da parte della mia famiglia qua, perché la situazione era diversa. Ora come ora, con i numeri che ci stiamo ritrovando ad avere, la situazione non è proprio ideale, anche perché comunque un locali in piazza Yenne ha parecchie spese di affitti e di suolo e altre cose. Quindi all'orizzonte c'è anche un possibile calo degli affari con questi tavolini in meno? C'è sicuramente un grosso calo degli affari, con conseguenze che non so poi come potrebbero essere interpretate da parte mia. Diciamo che potrei scegliere di non tenere più questa attività e prenderne un'altra, magari in un'altra zona. Sicuramente a Cagliari però sta diventando un po' proibitivo avere dei locali. Lei quanto ha investito in questa attività? Quanto in euro? Parecchio, si dice. Se vuole lo puoi dire, per dare anche un senso maggiore. Sono quasi 50.000 euro. E Cagliari dal suo punto di vista è una città proibitiva per chi vuole tentare la carta della ristorazione? Magari non ovunque, però qua in particolare in piazza Yenne ci sono parecchi problemi. Parecchi.